Ok, sei pronta? Prontissima! Per andare a casa? Hai preso tutto? Ho preso tutto! Ok, ce la fai a portare? Qualcuno ti deve aiutare? No, ho tutto, ce la fai a portare! Grazie! Vieni, vieni! Grazie! Allora ragazzi! Grazie, grazie! Grazie, grazie! Grazie, veramente grazie! Siete stati gentilissimi, veramente! A presto di vederti, eh! In bocca al lupo che li posso fare! Fuori! Sì, certamente! Grazie, di nuovo! Grazie, bravo! Grazie! 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 Vice a Daniela Chiari San Marcello, alla dottorizzazione! Ok! Mi piacere di tornare a casa! Eh, sicuramente! Sicuramente! Grazie, grazie! È lungo il percorso? Sì, 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 davvero! È stato lungo, l'importante è tornare a casa! Certamente! Grazie a voi per la vostra disponibilità! Ma che ne so veramente... Ora qui ti liberiamo proprio! Grazie! La dottoressa non c'è! No te la chiamo subito! Grazie, grazie! Qui ci sarà? Ok, aspetta qui! Dove sta la tua moglie? Lì, lì, nella macchina, lì! Dove? Lì, quella multipla! Ok! Ok, grazie! Aspetta che noi ti chiamo! Sì, ok!